Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Quella che può essere una rabbia sociale. Possiamo dare una lettura di questo tipo. Quindi è un bene che anche la destra populista sia andata al governo. Lei lo condivide? Sì, anche perché dall'altra parte non c'era nessuno che poteva andare al governo. Ma detto questo, dobbiamo anche considerare che la Meloni si trova in una condizione di essere in qualche modo obbligata a fare quello che fa, contraddicendo la sua propaganda elettorale. Perché? Perché dall'Europa dipende il PNR, perché siamo in Europa, perché senza l'Europa non possiamo andare avanti da solo con il debito pubblico che abbiamo. Quindi è costretta ad essere più draghiana che meloniana. Ma detto questo, quello che è preoccupante è il fatto che fa dei decreti e poi dopo fa delle retromarce. L'abbiamo visto sul post, lo vediamo adesso sulla benzina. Le retromarce non si devono fare. Perché oggi l'ha fatta sui benzinai, domani la farà sui taxisti, dopodomani sui camionisti. Allora se queste corporazioni, e la destra è corporativa, ogni volta tirano fuori le loro rivendicazioni e il governo farà la retromarcia, allora a questo punto chi sta governando? Le corporazioni o il governo? Cioè lei lo dice proprio dal punto di vista pedagogico, non si fa così perché fatto una volta diventa un precedente e allora poi lo pretendono anche gli altri. Se ci deve essere una pedagogia di governo, ci deve essere una pedagogia. Ma è fondamentale, insomma, incomincia dalla scuola, se io ti do quattro, poi dopo tu ti metti a piangere, allora ti do sei. E no, non va bene. E i quattro è quattro. Cioè bisogna essere precisi quando si fanno i decreti, ma dopo non si deve più tornare indietro. Sicuramente costituisce un precedente. Massimo Franco, in questo caso però, dice Giorgia Beloni, i conti non sarebbero tornati. Cioè una manovra diversa sulle accise, sul tema della benzina, sarebbe costata un miliardo al mese. Un miliardo al mese, quindi 12 miliardi in un anno era un bel po' di soldi. No, non c'erano più che altro. Appunto, appunto. No, li potevi togliere da quei provvedimenti di cui parlava Flavia e metterli sull'abolizione delle accise. Però il problema è che bisogna scegliere. Bisogna scegliere quando si ha il governo e onestamente siamo in una situazione in cui i margini di manovra sono strettissimi. Quindi alla fine ha dovuto fare delle scelte rispetto ad altre. Il problema però è vero, condivido il professor Galimberti, bisogna dare segnali omogenei. Se si danno segnali contraddittori non è soltanto un fatto di pedagogia, è un fatto politico. Cioè ti dà l'idea di un governo che vuole durare cinque anni, vuole cambiare il volto all'Italia, vuole fare delle riforme strutturali e poi è costretto a esitare quando vede dei pezzi di società che si oppongono in modo, non dico virulento, però certamente molto deciso. Quindi secondo me questo è il tema, dare messaggi più omogenei di quanto non siano stati dati in questi primi mesi di governo. Sì, c'è anche un inizio.